Passo decisivo verso la salvezza per la Florigel Futsal Andria che torna al successo tra le mura amiche del Palasport superando con un netto 8 a 0 il Futsal Monte Sant'Angelo. Gara senza storia quella andata in scena nell'impianto di Corso Germania dove la squadra di Michele Bonadies domina in lungo e largo e guarda con più fiducia al finale di campionato. Dopo una prima fase di studio e un possesso di palla sterile i bianco-azzurri trovano il vantaggio al nono minuto azione di ripartenza. Tortora serve sulla sinistra Somma che con una precisa puntata batte Giannino 1 a 0 e centesima rete con la maglia dell'Andria per il laterale barlettano. Il vantaggio galvanizza i bianco-azzurri. Somma con il piattone Mancino firma il 2 a 0. Rella da posizione centrale infila il Tris. La percussione di De Cillis e la successiva rassoiata valgono il 4 a 0. Il Monte Sant'Angelo privo di capitano Ortuso scompare dal campo e Ferrucci su Assis di Rella realizza il 5 a 0 prima del riposo. Nella ripresa complice il pesante passivo i ritmi inevitabilmente calano e l'Andria gestisce il match senza particolari problemi arrotondando il risultato con il taping di acqua viva la doppietta di De Cillis e il Tris personale di Somma per l'8 a 0 finale. La Florigelandria con questo successo sale a quota 27 punti e abbandona la zona pericolante in vista del recupero della sfida casalinga contro l'audace Monopoli che si disputerà sabato prossimo. L'occasione per chiudere definitivamente i conti salvezza a due giornate dalla fine.